Tutto il Napoli è rientrato nella propria area di rigore con tre uomini in barriera Zuniga, Lavezzi e Gargano L'arbitro Saccani si va a sistemare sul giusto punto di osservazione Poi chiede alla barriera Napoli di arretrare di qualche centimetro Parte Kolarov, sinistro potente, ribattuto da Lavezzi che è stato tramortito Dal colpo pesantissimo di Kolarov, colpito in pieno volto Lavezzi Guardate qui il pocio Quasi esanime al suolo Ancora il pocio che non riesce a riprendersi E' stato durissimo il colpo, mani al volto per Lavezzi che si è immolato su questa conclusione di Kolarov Ecco qui, l'ha preso proprio sulla parte sinistra, quasi sull'orecchio Guardate, ecco qui, tra orecchio e tempia Rimasto a terra, quasi esanime Lavezzi Non ha perso conoscenza però Vedete che il colpo è stato duro e lo ha risentito Lavezzi, 13 partite, 2 gol in questa stagione, entrambi in trasferta in casa Non segna da 295 giorni Ecco anche un po' di sali per farlo riprendere Sulla assistenza del medico sociale Alfonso De Nicola e del massaggiatore Massimo Buono Discutono Mazzarri e il suo vicefrustolo Si è rialzato adesso Lavezzi Ancora con gli effetti del colpo di Kolarov Una vera e propria bordata che lo ha colpito sulla parte sinistra del volto Non si è ancora ripreso del tutto Guardate con che fare paterno Mazzarri lo sta accompagnando a bordo campo perché lo prevede il regolamento anche se il calciatore si riprende deve uscire dal campo Rimessa con le mani per il Napoli C'è Zuniga che lascia il pallone ad Amsic che poi lo restituisce correttamente a Muslera Probabilmente l'arbitro darà ancora un minuto di recupero perché siamo ormai al 48esimo E sono scaduti due minuti di gioco supplementare Non trascorse praticamente soltanto per consentire Lavezzi di riprendersi e l'arbitro Così infatti alla scadere del terzo minuto Manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0 Al termine del primo tempo una partita ben giocata dal Napoli per quasi mezz'ora Poi è venuta fuori la Lazio che si è fatta anche notare in attacco Squadre che tornano negli spogliatoi noi diamo la linea alla regia È finito il primo tempo tra Napoli e Lazio 0 a 0 il risultato Quindi continua la tendenza del Napoli di Mazzarri a non segnare mai nel corso del primo tempo Per sei partite di fila è successo anche quest'oggi La squadra azzurra non è riuscita ad andare a bersaglio Lavezzi tramortito dalla punizione di Kolarov Lazio insidiosa nel finale Napoli soprattutto nella prima parte Vedremo nella ripresa cosa accadrà Adesso linea alla regia Grazie a tutti